Per chi non lo sapesse, mio padre era direttore di albergo e direttore di alberghi anche piuttosto importanti, ma al sud. Parlo di Palermo, parlo di Taormina, parlo di Matera, Ascoli, Piceno e giù di questo passo. Quando ci incontravamo, perché dopo un periodo della mia vita mio padre ha fatto il talbergo, io sono rimasto a Trento, quando tornava, insomma, com'era coi Teroni, com'era coi Teroni papà? E mio padre mi rimproverava sempre, si vede che tu non hai vissuto ed abitato al sud, perché non parleresti così. Ma io come parlo così? Dico, Esoni che vuoi fare niente, bisogna mandare che sei preso soldi. Sì, sarà, ma vieni a vivere al sud. Difatti a Matera andai per 40 giorni e mi resi conto che effettivamente fino alle 5, dalle 10 della mattina fino alle 5, insomma, la situazione era piuttosto pesante. Alcuni anni fa la prole Tamanini decide di andare al mare e mio figlio lavora a Bari per un'azienda per un po' di anni e mi dice perché non vai a Marina di Ugento a 5 chilometri, anzi a 10 chilometri da Santa Maria di Leuca. Allora ho detto a mio figlio, ti vuoi proprio mandarmi a Zona Egitto? Ti conto il colpetto, vado via e vado a forza le scatole. No, no papà, prova e vedrai che è un bel modo. Così è stato e siamo andati e anche quest'anno sono tornato a Marina di Ugento. Ma, ma, Marina di Ugento evidentemente come Marina di Ugento vuol dire che il comune di riferimento è Ugento, comune di Ugento. Allora ho detto, beh, senti Lucia che seria la consorte, perché non andiamo a vedere Ugento? Combinazione vuole che alla messa, nei campeggi ci sono anche le messe, per poche persone, per la verità, ma si recita la messa e la messa è recitata dal parroco di Ugento e a questa messa c'era anche il sindaco di Ugento, al quale ho detto, ma sta Ugento com'è grande, piccola? E ho detto, Ugento è una ragazza importante, c'è il vescovo, com'è col vescovo? Eh, se c'è il vescovo, ma se siete 12 mila abitanti, eh, sì, 12 mila abitanti, ma c'è il vescovo, il seminario e c'è anche un bellissimo museo, museo? Dico, ma non ci posso credere. Il giorno dopo sono partito con un taxi con le luci e siamo andati a Ugento, meraviglie delle meraviglie. Non ho visto per le strade, ve lo garantisco, una carta, non ho visto un pacchetto di sigarette buttato lì, non come fuori dalla nostra Coop, che è uno spargimento di scartoffie, non ho visto fuori dal supermercato, guanti di plastica, sacchetti o pezzetti di carta, involucro e dei cibi che danno ai bambini, non so come si chiamano, ma nella favola sono rimasto stupito. Lo stupore maggiore è stato anche al museo, dove ho visto delle cose incredibili, un gruppo di ragazzi di Ugento si sono messi e hanno prelevato dal comune, che non era in grado di gestire il museo, il museo di Ugento. Meraviglia delle meraviglie, mi dicono guardi che ci sarebbe anche la cappella ipogea che è un po' lontana nella campagna, potremmo andare a vederla. Questo archeologo che è Paolo di nome, simpatico che non vi dico, andiamo, prendi la macchina e siamo andati attraverso qualche chilometro a una cabina telefonica, o cabina, anzi meglio dell'Enel, quelle cabine di trasformazione. No, dice veramente non è la cabina di trasformazione, questa qui sarebbe la sede della... qua, dico così, beh guardate non c'era parcheggio intorno, comunque siamo andati giù, una cosa meravigliosa, vi assicuro bellissima, una cosa antica, una cosa vecchia, perché l'avevano fatta ai tempi dei saraceni quando chiedeva sulla testa i cristiani come l'Isis oggi allora che erano i saraceni. Bene, ma la cosa che mi ha meravigliato di più è che il cambiamento di stese di olivi, ma una cosa, una cosa, campi dove essicano i pomodori, pieno di iniziative, scopro che a Ugento c'è una ditta di trasporti che ha 4 pullman, 10 pulmini e 5 macchine per i trasporti veloci, Ugento. Quando noi parliamo del Sud, credetemi, qualche volta commettiamo un grande errore, perché il Sud ha il petrolio, bisogna che noi del Nord ci diamo una grande registrata, perché voglio concludere, voglio concludere, quando sono salito all'aeroporto di Brindisi, tutto intorno le strade senza ermente, scesi dall'aeroporto di Bergamo e presa la strada che porta a Corne, uno schifezzo, se mi avessero detto che Bergamo era il Sud avrei detto sì, Bergamo è Terogna. La prossima volta parleremo d'altro. Grazie a tutti.